Il sindaco di Pordenone Claudio Pedrotti assieme agli assessori comunali Flavia Rubino, Bruno Zille e Flavio Moro hanno ricevuto in municipio i componenti del laboratorio del Consiglio Comunale dei Ragazzi per l'anno scolastico 2015-2016. Con quest'anno il CCR si consolida ulteriormente poiché i rappresentanti sono passati da 48 a 56 e le scuole da 11 a 16. L'assessore comunale all'istruzione Flavia Rubino. Oggi c'è stata la presentazione alla giunta del nuovo tema che il Consiglio Comunale dei Ragazzi affronterà in quest'anno scolastico che è Anch'io mi occupo della mia città, tema che incontrerà la delibera consigliare che verrà presentata nel prossimo Consiglio Comunale sul regolamento sui beni comuni. In che cosa consiste? Chiediamo ai ragazzi di essere cittadini consapevoli fin da piccoli e quindi di contribuire all'abbellimento o al mantenimento, alla pulizia della propria città essendo consapevoli che il fare bene implica anche il far bene anche per gli altri. Quindi un po' come la teoria delle finestre rotte se io vedo una città che non è curata tendo a aggiungerci del mio. Se invece vedo che la città comincia ad essere diversa anch'io farò di tutto per mantenerla tale. Grazie. Grazie. Grazie.